eccoci qua allora riprendiamo la lezione di oggi riprendiamo innanzitutto con un appendice rispetto a una discussione che abbiamo avuto ieri che diciamo così avevo già scritto ieri sera su slack perché non mi ero convinto sul fatto che non si riuscisse a allineare le stringhe a sinistra o a destra con la sintassi della f stringhe e effettivamente zio google con un po di ricerca ma soprattutto andando a leggere la documentazione quello che ho scoperto è che nella sintassi della f stringhe i caratteri la sintassi utilizzata per indicare l'allineamento è diversa qui non c'è il meno e non il meno ma ci sono tre simboli diversi che sono il minore il maggiore e l'accetto circonflesso per indicare l'allineamento a sinistra a destra o al centro ok quindi questa era la diciamo così la versione corretta qui ho provato a stampare il nome tom su 20 caratteri vedete che la prima volta me lo stampa allineato sinistra che sarebbe questa la seconda me lo stampa allineato a destra che sarebbe questa e la terza me lo stampa allineato al centro che sarebbe quest'altra qualcun altro oltre al girolamo ha problemi di audio o riuscite a sentirmi? ok allora mi spiace per girolamo ma il problema è lato tuo e non è lato mio ok grazie no quindi questo è vi avevo messo anche nel 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 link la documentazione su slack la documentazione ufficiale di quello che è la specifica di formato del f string questo schemino è lo schemino generale che dice essenzialmente come si costruisce una stringa di formato che ha varie componenti varie parti non è facilmente leggibile però essenzialmente c'è una parte di carattere di riempimento quindi nel nostro caso il carattere di riempimento è lo spazio una parte di allineamento che può essere minore maggiore uguale o circonflesso e questa tabellina sotto ci spiega il significato delle varie opzioni quindi la 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 versione col col meno con le stringhe diciamo così è stata modificata e ripresa in un modo un pochino più anche anche più flessibile forse anche più leggibile quindi quando avete dei dubbi andate ricordate che questo link che si chiama forma specifici un mini language che vi dice essenzialmente tutto ciò che dovete sapere sui vari dettagli che va avanti per pagine pagine con tutti i casi particolari ovviamente ma noi abbiamo cercato di semplificare ridurci ai casi principali però visto che era saltato fuori la discussione è bene è bene chiuderla alister mi dice che mi chiede i caratteri i caratteri i 20 sono il totale ok andiamo a leggere se contiamo gli spazi qua sono 20 compresi 3 di tom cioè non stiamo stampando il nome e poi altri 20 caratteri stiamo dicendo stampami il nome all'interno di uno spazio che deve essere di 20 caratteri o che deve essere in realtà minimo di 20 caratteri se andiamo a riprendere la documentazione qua mi dice che ad esempio no quello che lui chiama width quindi l'ampiezza mi spiega dopo che eccolo qua width è un numero decimale intero quindi quel campo lì quel 20 che definisce the minimum total field width quindi la larghezza l'ampiezza totale minima di questo campo compresi prefissi separatori tutti gli altri caratteri di formattazione ok quindi la larghezza minima che comprende anche il la variabile il valore della variabile che vogliamo che vogliamo stampare ok chiusa questa parentesi riprendiamo il nostro ragionamento sui cicli e in particolare avevamo ieri sul negli ultimi cinque minuti essenzialmente costruito questo piccolo programma che era l'implementazione in python di ciò che avevamo già visto in laboratorio sull'algoritmo per il calcolo del saldo ok adesso qui riprendiamo questo stesso algoritmo sulle slide dove la sintassi dell'istituzione while abbiamo visto che alla parola chiave while ha una condizione booleana una condizione booleana che può essere vera o falsa e poi è un corpo che viene che viene eseguito un certo numero di volte viene eseguito tante volte finché questa condizione rimane vera cioè tutte le volte che questa condizione viene valutata vera viene eseguito il corpo del ciclo e poi si torna su a rivalutare la condizione e questo diciamo così cicla un numero di volte che dipende da quando diventerà falsa a un certo punto questa condizione quindi il modo per uscire da un ciclo quindi entro un ciclo continuo a girare il modo per uscire a fare in modo che la condizione che ho scritto a certo punto diventi falsa e non più vera e allora a questo punto l'esecuzione continuerà dalle istruzioni successive al ciclo qui sulle slide vi trovate diciamo così l'esecuzione passo passo i vari passaggi 1 2 3 che ci fanno vedere che cosa succede noi l'abbiamo visto e magari lo rivediamo adesso con un pelino più di calma di commenti direttamente nel debugger chiaramente le immagini del libro non sono interattive come può essere il debugger ma ci servono in ogni caso per capire cosa succede e quindi torniamo un attimo a rivedere l'esecuzione passo passo di questo programma ok quindi le prime istruzioni sono banali nel senso che inizializzo queste due variabili e poi ho inizializzato queste due variabili importanti che sono variabili usate dentro il ciclo del corpo dentro il corpo del ciclo ok quindi ricordiamoci dentro il corpo del ciclo dobbiamo usare la variabile saldo l'abbiamo usata come accumulatore accumulatore l'abbiamo detto quando facevamo gli algoritmi è una variabile dentro la quale si vanno ad accumulare delle somme delle sommatorie delle produttorie eccetera che viene aggiornata con aggiungendo i nuovi valori ad ogni ad ogni nuova iterazione ad ogni nuovo dato che sto scoprendo anno invece è una variabile diciamo così che abbiamo chiamato di tipo contatore perché parte da zero e via via si incrementa di un'unità quindi conta quante volte sono passato di qua no un po come diciamo quando voi fate le gare di corsa in macchina in bicicletta c'è qualcuno che conta quanti giri avete fatto e come fa a contarlo beh quando passate di lì aumenta di uno il vostro conteggio ecco questo è lo scopo di variabili di questo genere sono variabili che vengono usate e aggiornate all'interno del ciclo usate perché chiaramente mi serve saldo per poter moltiplicare per l'interesse quindi uso mi serve conoscere il valore ma anche il valore corrente di questa variabile ma anche mi serve aggiornarla cioè modificarla in modo che all'interazione successiva venga acquisisca un valore nuovo un valore aggiornato ok variabili di questo genere che vengono usate e aggiornate dentro il ciclo devono essere necessariamente inizializzate prima dell'inizio del ciclo perché altrimenti la prima volta se non avessi l'istruzione 5 6 la prima volta che che invece questo caso o e quindi eseguo quando arrivassi qui saldo minore di saldo iniziale la variabile saldo quanto vale adesso ma soprattutto all'interno del corpo del ciclo questo variabile saldo alla prima iterazione la prima volta che arrivo al ciclo non avrebbe un valore quindi proprio una regola generale ogni ogni variabile che usiamo dentro un ciclo dovremmo sicuramente assicurarci che venga inizializzata prima inizializzata significa cosa significa darle un valore che abbia senso prima della prima iterazione che abbia senso quindi che essere utilizzato all'interno del corpo che per la prima volta nel quale questo corpo viene iterato per la prima volta nel quale questo corpo viene inserito quindi qui ci chiediamo anno qual è il valore iniziale di anno allora domanda dobbiamo tradurla come quanti anni sono passati prima di aver fatto per la prima volta questo ciclo nessuno io eseguirò il ciclo al termine di ogni anno quindi prima della prima volta quanti anni sono passati zero vedo che nicolò ma già un'altra persona prima aveva commentato che non riusciva a vedere la condivisione dello schermo è un problema di tutti quindi alcuni vedono e altri no vi chiederei eventualmente di provare a ricollegarvi quindi è un problema di alcuni solamente si vede lo schermo ogni tanto va a scatti la voce su questo purtroppo non posso fare molto di più l'unica cosa è che il zoom registra il filmato in locale sul mio computer quindi se anche la voce adesso si sente a scatti poi nella registrazione non ci sarà questo problema ok mi spiace sono alcune persone per cui probabilmente il problema rischia di essere magari la loro configurazione ok mi spiace per chi per chi ha questi problemi ma sembra che la maggioranza in certo senso non li abbia quindi diciamo così procedo e diciamo che se riuscite a seguirmi anche con lo schermo buio poi ci sarà chiaramente la registrazione cerchiamo poi eventualmente offline a valida lezione se volete fare delle prove per verificare cosa c'è che non va no facciamo poi diciamo così in privata sede senza far perdere tempo tutti volentieri basta che mi contattiate poi possiamo fare qualche prova ok scusate l'interruzione però era per essere sicuro di non parlare al nulla dicevamo l'importanza di inizializzare le variabili e ci chiediamo a che valore devo inizializzarle qual è il valore iniziale di una variabile che vuole dentro il ciclo beh il valore che deve avere sensatamente quella variabile prima della prima iterazione quando ho fatto zero volte il corpo del ciclo quindi in questo caso l'anno l'anno zero di partenza il saldo iniziale il saldo cioè quanti soldi ho in banca sarò uguale a quanti ne avevo depositati prima che gli interessi non cominciassero a maturare però la domanda generale teniamocela in mente no? è chiaro che per rispondere a questa domanda qual è il valore che devo dare ad anno alla variabile iniziale che devo dare alla variabile anno devo innanzitutto avere molto ben chiaro in mente che significato ha per me la variabile anno cosa rappresenta? rappresenta l'anno 2020? cioè l'anno in cui viviamo? no rappresenta il numero di anni per i quali quel capitale ha fruttato quindi di nuovo ritorniamo allo stesso discorso che facevamo quando facciamo il diagramma di flusso in cui è fondamentale definire quali sono le variabili che usiamo soprattutto per noi stessi chiarire qual è il ruolo e il significato di ciascuna di queste variabili allora a questo punto diventa più facile così assegnarle poi siamo alla linea 9 quindi le variabili sono state inizializzate quindi siamo pronti per entrare nel ciclo la prima volta e a questo punto prima di entrare nel ciclo per la prima volta viene controllata la condizione del while quindi prima di fare il corpo linee 11 e 12 siamo alla linea 9 e valutiamo questa condizione questa condizione normalmente se vogliamo che il ciclo faccia qualcosa inizia vera cioè la prima volta che la vado a valutare sarà una condizione vera in questo caso saldo è minore di saldo iniziale vediamo se è vero sì è vero questa condizione qua me la sono valutata qua nella console che si è aperta a fianco e mi dice che è vera ok bene perché lo posso fare anche a mano saldo vale 1000 saldo iniziale vale scusate saldo vale 10.000 saldo iniziale vale 10.000 anche lui 10.000 per 2 fa 20.000 quindi questa disuguaglianza è sicuramente verificata il che significa che almeno una volta entrerò nel corpo del ciclo eseguirò il corpo del ciclo while quindi la condizione normalmente è inizialmente vera cioè appena ci arrivo per la prima volta questa condizione sarà vera potrebbe capitare non in questo esercizio ma in generale che la condizione sia inizialmente falsa quindi quando arriva un ciclo while vede una sua condizione e questa è già falsa falsa in partenza in questo caso cosa succede? logicamente non succede nulla nel senso che se un ciclo while ha già la condizione falsa in partenza il corpo del ciclo non viene eseguito nemmeno una volta e passa direttamente all'istituzione successiva al while quindi quando incontro un ciclo while il numero di iterazioni che vengono fatte può essere nessuna perché se la condizione è già falsa in partenza oppure una volta oppure due volte oppure tre volte a seconda di quando la condizione quante volte la condizione rimane ancora vera ok? però dobbiamo sempre considerarlo come c'è una domanda da farci attenzione cosa capita se la condizione può capitare che la condizione sia inizialmente falsa allora in questo caso il programma si comporta correttamente fa la cosa giusta è uno dei tanti corner case casi limite di cui dobbiamo preoccuparci in questo caso la condizione inizialmente è vera come capita nella maggior parte dei casi e quindi l'esecuzione entra nel corpo del ciclo entra ed esegue normalmente queste istruzioni quindi abbiamo saldo nuovo uguale saldo vecchio più l'interesse che viene calcolato come percentuale sul saldo esistente e così via questa è la parte di calcolo e ciò che succede è chiaramente che le variabili si aggiornano quindi saldo viene modificato adesso vale 10.500 in funzione dell'istruzione che scrivo e quando termina il corpo abbiamo visto che l'esecuzione ritorna a valutare la condizione quindi eseguo tutto il corpo del ciclo e poi hop torno su alla prima istruzione che è quella dove il while valuta la condizione e questo viene ripetuto più volte ogni volta la condizione viene ricalcolata rivalutata andiamo a vedere a questo punto dopo aver fatto due o tre giri questa condizione è ancora vera sì è ancora vera e allora continua a lavorare quindi lavorerà un certo numero di volte per un certo numero di iterazioni in questo caso noi stiamo cautando le iterazioni con la variabile anno che è arrivata fino a 4 e speriamo che prima o poi questa condizione diventi falsa perché se non diventasse mai falsa quindi rimanesse vera per sempre rimarrei intrappolato in questo ciclo all'infinito Alessia mi dice se ci accorgiamo che fin dall'inizio la condizione è falsa cambiamo la funzione y come la funzione if ad esempio dipende dai casi dipende da che cosa voglio fare magari ci sono alcuni casi in cui va bene non eseguire mai l'iterazione in questo chiaramente in questo caso non si può verificare però se vi dicessero stampa x volte il tuo nome e ti dicono stampa 0 volte il tuo nome allora va benissimo che il tuo while non venga eseguito manco una volta perché se non lo devi fare non devi fare non lo devi fare ma manco una volta questo però dipende dai casi quindi vedremo una serie di casistiche l'istituzione while è banale però la complicazione dove arriva quando cominci a combinare i vari casi possibili che si possono verificare vero, falso, prima interazione, l'ultima eccetera con le varie condizioni con i condizionali con le varie if e quindi rimarremo fermi due settimane su queste cose cioè questa settimana e la prossima sono dedicate a a approfondire e impratichirci con questo tipo di costrutti ok no Tommaso è identico al while del C perché mi dici che è diverso anche in C il while valuta la condizione ah il do while scusate certo il do while parentesi per Tommaso per coloro che conoscono il C non esiste in Python non esiste un costrutto do while in cui la condizione venga valutata in fondo ok ma possiamo ovviamente emularlo vedremo come vabbè e qui stiamo iterando e ci siamo detti ma speriamo che questa cosa qua prima o poi finisca cioè che questa condizione prima o poi diventi falsa e noi sappiamo già perché l'abbiamo già provato prima che devo fare 15 giri quindi un po' noioso cliccare sul bottone step ma lo sappiamo possiamo farlo con questa piccola fatica e quindi ci sarà un certo momento in cui eseguiamo l'ultima iterazione l'ultima iterazione è questa quella che ho appena fatto quella in cui anno inizialmente valeva 14 adesso lo incremento diventerà 15 quando anno vale 15 beh lo vediamo qua che il saldo ha superato i 20.000 lo vediamo qua sotto guardate dove volete e quindi sappiamo che questa condizione diventerà falsa a questo punto questo valore di saldo e questo valore di anno sono importanti perché sono i valori diciamo di uscita dal ciclo alla fine tutto sto ciclo ha fatto tutto sto lavoro ma il valore finale di quelle variabili è quello che abbiamo calcolato in questo momento è quello che esce dal ciclo nel momento in cui la condizione diventa falsa quindi anche qua dobbiamo chiedersi due cose uno siamo sicuri che la condizione diventi falsa che diventi falsa nel momento giusto cioè che non faccia un giro di troppo o un giro troppo poco e e qual è il valore delle variabili che ho calcolato nel momento in cui la condizione diventa falsa e quindi nel momento in cui poiché questa condizione adesso è falsa torno qua vedete che è falsa nel momento in cui vado avanti e proseguo in questo caso stampando il valore allora queste domande non sono non hanno una risposta univoca ma sono semplicemente per ricordarci il tipo di ragionamento che dobbiamo fare abbiamo tre momenti dentro il ciclo cosa dobbiamo iterare come dobbiamo aggiornare variabili prima del ciclo com'è che dobbiamo inizializzare quali variabili dobbiamo inizializzare e a quali valori l'uscita del ciclo qual è la condizione di uscita e quali sono i valori finali di queste variabili questi sono diciamo così i tre momenti a cui dobbiamo sempre pensare e ragionare un attimo ogni volta che impostiamo un ciclo poi ciò che vedremo è che molti cicli alla fine si somigliano sono impostati in modo simile quindi il ragionamento fatto per bene la prima volta diciamo così ce lo troviamo già pronto già fatto per le volte successive ok in questo caso abbiamo stampato qua che dopo 15 anni il saldo sarà di 20 mila questo già lo sapevamo ieri e quindi esistono varie come dicevo tipologie di cicli che in qualche modo possiamo impostare while è un'istruzione generica quindi la posso usare come voglio poi molto spesso ci si ritrova nei problemi concreti a dover fare cicli che diciamo possiamo catalogare in qualche diciamo così tipologia più o meno definita ad esempio ci sono i cicli che qui ho chiamato controllati da un contatore quindi cicli nei quali il numero di iterazioni da fare dipende da quante volte li faccio e in qualche modo mi fermo quando avrò fatto 10 iterazioni quando avrò fatto 7 iterazioni quindi in questo caso la condizione di uscita sarà una condizione che valuta quante iterazioni ho già fatto e a ogni iterazione dovrò incrementare di uno questo contatore a questo punto il contatore assume un valore molto più specifico cioè quanti giri ho fatto quante iterazioni ho fatto quante iterazioni voglio fare eccetera eccetera quindi alla fine quando arrivo al valore massimo di un conteggio esco quindi questa condizione vedete che c'è un minore uguale per cui fin tanto che il numero di iterazioni fatte è minore del numero di iterazioni che voglio fare rimango dentro ma poi poiché lo incremento questo valore prima o poi questo contatore supererà la soglia il valore soglia e quindi questa disuguaglianza diventa falsa e quindi posso uscire quindi se voglio stampare 5 volte il mio nome cosa del tutto inutile ma facciamolo come non package cosa ho fatto new python file chiamiamolo cicli semplicemente perché facciamo qualche esempio sui cicli quindi se io volessi stampare 5 volte lo definisco come costante quante volte voglio stampare il mio nome 5 potrei usare come un input per leggerlo ok ma voglio fare un po' in fretta quindi non scriverlo ogni volta perché mi annoio allora dovrei fare un ciclo che il cui corpo è semplicemente scrivere il mio nome si chiama Tom perché l'abbiamo usato ieri per esempio e e questo va ripetuto 5 volte come faccio ad essere sicuro di ripetere 5 volte allora qualcuno di voi potrebbe dire eh vabbè fai copia in colla 5 volte e chiaramente questo non funziona non è pensare all'informatico perché ti arriva uno ti scrive 55 e il tuo programma lo devi cambiare devi metterti a contare il numero di volte che lo fai e non va bene quindi deve essere il programma stesso che è in grado di ripetere per 5 volte questa istruzione e noi sappiamo che lo possiamo fare impostando un ciclo in cui il numero di volte sia minore del numero di volte massimo e il numero di volte che ho eseguito questo ciclo il numero di volte che ho eseguito questo ciclo sarà una variabile che devo inizializzarlo a un valore iniziale adesso poi decidiamo quale e ovviamente dovrò incrementarlo all'interno del ciclo ok allora Alida sta cercando di bypassare il problema dicendo io mi costruisco una stringa moltiplicandola per 55 ok in questo caso specifico sì però se dovessi scrivere a fianco di Tom un valore diverso non mi basta semplicemente replicare la stringa 55 volte questo esempio è chiaramente più semplice rispetto a quanto si potrebbe fare allora ci sono due diciamo così modi di impostare questi cicli basati su un contatore dipende come contiamo allora uno potrebbe dire contiamo partire da 1 e quindi mi dice quante volte devo eseguire il ciclo quindi potrei inizializzare il contatore a 1 volte minore di numero 1 minore di 5 quindi la prima volta sì è vero allora scriverò Tom poi incremento volte che diventerà 2 2 minore di 5 sì e quindi vado avanti così a un certo punto incrementando volte verrà maggiore non più minore di numero ma maggiore anzi maggiore uguale e quindi il ciclo esce quindi in questo caso se io eseguo questo programma vedrò che il nome Tom viene stampato attenzione 4 volte come qualcuno di voi l'ha già notato prima se io conto a partire da 1 il numero di volte mi sta già in qualche modo contando l'iterazione che sto per fare e quindi per contarne per farne 5 dovrò contare 1 2 3 4 e 5 ma la 5 la devo ancora fare e quindi in questo caso è fondamentale mettere un minore uguale e non un minore qua altrimenti ne fa 1 in meno ok qui noi contiamo normalmente partendo da 1 intuitivamente però partendo da 1 vuol dire che la prima iterazione vale 1 l'ultima vale 5 ma la 5 è ancora valida è ancora buona ok e questo è il modo di ragionare normale poi c'è il modo di ragionare degli informatici che contano a partire da 0 ok e inizializzano il contatore a 0 anziché 1 e quindi a questo punto 5 volte vuol dire le 5 volte come si contano 0 1 2 3 4 o 5 dita le 5 dita si sono numerate 0 1 2 3 4 l'abbiamo già visto questo modo di contare a partire da 0 nei caratteri delle stringhe in cui il primo carattere è il carattere 0 e non è il carattere 1 il carattere di indice 0 di posizione 0 e anche qui la stessa cosa questo funziona meglio ma allora è esattamente uguale non è vero che in C++ si fa in modo diverso perché si può fare in qualunque linguaggio contare a partire da 0 completare a partire da 1 si può fare è una scelta nostra di programmatori è spesso preferibile anche se le prime volte è un po' strano sembra meno intuitivo usare questa seconda forma in cui il conto partendo da 0 a me è anche pare anche più chiaro perché se io mi chiedo la variabile volte rappresenta quante volte ho fatto il ciclo e quindi prima della prima iterazione quante volte l'avrò fatto? nessuna cioè a me suona più strano questo 1 che non quello 0 però è forse anche una questione di abitudine oppure di diciamo così deformazione mentale e non lo nego è anche più facile scrivere il minore che non il minore uguale è più facile il minore uguale a volte ci si dimentica l'uguale perché arriva fino a 5 fino a 5 compreso o escluso in questo caso partendo da 0 uso sempre il minore perché uso il minore? perché 0 1 2 3 4 quindi finché volte è uguale 4 sto facendo la quinta iterazione se volte è uguale 0 1 2 sto facendo la terza iterazione volte è uguale 3 sto facendo la quarta iterazione volte è uguale 4 che è ancora minore di 5 sto facendo la quinta iterazione quando volte è uguale a 5 farei già la sesta iterazione quindi quando il contatore del giri fatti è già uguale al numero a cui devo arrivare è già troppo mi devo fermare perché se ne facessi una in più sarebbe una di troppo ok quindi molto spesso no vediamo i cicli scritti in questo modo partendo da 0 e col minore è assolutamente uguale è chiaro che se io dovessi scrivere un messaggio per un utente scusate adesso mettiamoci una print in mezzo così vediamo cosa succede così ok ovviamente queste due versioni fanno esattamente la stessa cosa cioè la prima scrive 5 volte tom la seconda scrive 5 volte tom se però volessimo scrivere tom 1 tom 2 tom 3 tom 4 tom 5 vabbè questo è facilissimo basterà scrivere tom volte come f string come abbiamo imparato a fare ieri e ci stampa tom 1 2 3 4 5 quindi il valore del contatore coincide con la nozione intuitiva umana del conteggio del valore del numero ok e chiaramente se io facessi la stessa cosa sotto viene fuori una cosa brutta viene fuori tom 0 tom 1 tom 2 tom 3 tom 4 no perché il valore del contatore e mentre agli informatici la cosa può essere più gradita alle persone normali perché ci sono anche gli umani al mondo oltre agli informatici questa cosa qua dice ma che cosa sta facendo questo programma allora dobbiamo ricordarci che quando ci interfacciamo con gli umani gli umani contano partire da 1 anziché come come sarebbe giusto contassero partire da 0 ok quindi in questo caso dovremmo mettere un più 1 a puro scopo estetico di presentazione di visualizzazione del dato ok quindi questo alla fine è il formato che si ripete molto spesso allora noi l'abbiamo ragionato passo passo cosa capita la prima volta cosa capita l'ultima volta dopo che succede molto spesso così sviluppiamo dei pattern degli schemi ripetuti nella programmazione questo magari la prima volta fatichiamo un po' a capirlo ci ragioniamo bene minore minore uguale parto da 0 parto da 1 e dopodiché lo usiamo come un timbro cioè alla fine quando dobbiamo fare un ciclo di cui sappiamo esattamente quante iterazioni fare sappiamo già che possiamo scrivere una cosa di questo genere c'è una domanda di Marco che che mi dà un altro suggerimento in cui dice per evitare questa cosa qua lo ricopio sotto potrei scambiare tra di loro l'incremento e la stampa quindi alla fine e quindi non ho bisogno del più uno perché l'ho già incrementato prima di stamparlo sicuramente si può fare non lo si vede fare molto spesso perché se questa variabile viene usata solamente per contare le iterazioni chi se frega va benissimo ma se questa variabile venisse usata anche per indicizzare i caratteri di una stringa o indicizzare altre cose che impareremo più avanti allora il fatto che venga già incrementata in anticipo di fatto è come se partisse da uno e è sempre uno più avanti rispetto al valore che poi mi serve per fare i calcoli quindi molto spesso si preferisce tenere la variabile a un valore con base zero cioè che parte da zero zero based e ha un valore normalmente più utile dal punto di vista dell'algoritmo e poi quando devo stampare qualcosa interfacciarmi con gli umani beh metto quel più uno e non faccio troppe difficoltà altrimenti qua incrementare a metà del ciclo spesso crea confusione o complica quindi questo è ovviamente giusto ma io vedo che la maggior parte dei programmatori tendono a usare questa forma qua che è quella alla fine che bilancia una leggibilità e una funzionalità poi sono tutti giusti alla fine tutti questi stampano cinque volte il nome fanno esattamente la stessa cosa il ragionamento che stiamo facendo è sulla facilità di scrittura del codice sulla facilità di scriverlo corretto non sbagliandolo ok poi troverete molto spesso che questa variabile che qui ho chiamato a volte metà degli informatici del mondo la chiamano i i e se ce ne sono due si chiameranno i e j quindi usiamo quasi sempre questi variabili i e j per indicare l'indice di iterazione del ciclo quindi facciamo anche in matematica lo fate is con i l'iesimo valore di una sequenza eccetera eccetera perché anche perché se noi dovremmo venire fuori con dei nomi intelligenti per queste variabili in questo caso questa variabile non serve quasi a nulla se non a dirmi in che iterazione sono quindi molto spesso trovate una cosa di questo genere più avanti vedremo una forma diciamo così più semplificata più compatta di questo costrutto usando l'istruzione for ma per ora rimaniamo sulla forma generale quindi questo nella slide te lo fa vedere contando partire da 1 molto probabilmente conteremo partire da 2 da 0 scusate ma in ogni caso stiamo eseguendo un'iterazione in cui sappiamo sappiamo prima all'inizio quante volte eseguire quell'iterazione e ci sono invece altri casi come quello del tasso di interesse che abbiamo fatto prima in cui non sappiamo a priori se ne servono 8 anni se ne servono 10 se ne servono 15 se ne servono 80 perché è proprio quello l'obiettivo da trovare in questo caso e quindi io non so non posso avere un contatore non posso valutare il ciclo sulla base del raggiungimento di un certo valore soglia per il contatore perché non so a priori quanto sia questo valore soglia allora questo è il caso generale in cui ho una condizione qualsiasi che chiamiamola un evento a un certo punto si verifica un evento e questo evento è il diventare falsa di quella condizione quindi questo è il caso più generale ogni volta bisogna ragionare su quale condizioni l'importante è ovviamente che all'interno del ciclo vengano aggiornate le 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 variabili adesso questo caso è un caso poco realistico perché avrebbe un tasso di interesse del 100% annuo se ditemi se trovate dove lo fanno ditemelo che ci vado subito ma era solamente perché se no non ci stava nella slide e la cosa importante è essere diciamo così coscienti che noi non sappiamo a priori quante iterazioni vengono fatte quante iterazioni verranno effettivamente fatte però come costrutto è esattamente lo stesso di prima è un pochino più da ragionare mentre sul numero sul ciclo diciamo così che ripete un numero fisso di volte un numero noto di volte alla fine il timbro è sempre questo inizio da 0 incremento di 1 e la condizione è minore del valore soglia in questo caso è una costante potrebbe essere un'espressione qua invece la condizione ogni volta me la devo ragionare in funzione del problema che sto risolvendo quindi questo è il caso generale qui ci sono alcuni esempi riportati qua di cicli che fanno delle cose con degli errori con degli errori frequenti allora prima di tutto cerchiamo di capire cosa fa questo ciclo il primo ok il primo qua io uguale a 0 total uguale a 0 while total minore ai 10 io uguale più 1 eccetera eccetera allora noi abbiamo due variabili che sono queste che sono usate sono inizializzate qua e sono usate dentro il ciclo vedete che la uso e la aggiorno la variabile i è il classico contatore delle iterazioni quindi parte da 0 e viene incrementato a ogni iterazione viene incrementato questa volta come prima istruzione non come ultima questo conferma del fatto che il fatto di incrementare come ultima istruzione non è una regola fissa è una prassi ma se poi in questo caso adesso cerchiamo anche di capire perché ci conviene fare in un punto diverso lo facciamo in un punto diverso non ci facciamo problemi ok non ci facciamo problemi di di stile allora questo cosa fa la prima iterazione entra con u uguale a 0 total uguale a 0 entra sempre si entra sempre perché total parte da 0 e la condizione è minore di 10 ok quindi di sicuro 0 minore di 10 in partenza e quindi in partenza la condizione è vera e quindi entrerò a fare il ciclo almeno una volta entro a fare il ciclo la prima volta i vale 0 0 più 1 fa 1 e quindi porto immediatamente i a 1 e poi sommo al totale 0 che era il valore precedente del totale più 1 e quindi il totale vale 1 alla seconda iterazione i vale 1 viene incrementato diventa 2 e quindi i uguale 2 sommo al totale 2 alla terza iterazione i vale 3 e quindi sommo al totale il totale precedente più 3 alla successiva iterazione i vale 4 e sommerò 4 quindi che cosa sto facendo ciò che sto facendo è di partire da 0 e calcolare la somma 0 più 1 più 2 più 3 più 4 più 5 il più 1 2 3 4 5 è i i che si incrementa e ogni nuovo valore di i i uguale 1 i uguale 2 i uguale 3 prende i valori di numeri interi naturali e ogni volta che trova un nuovo numero naturale lo aggiunge al totale quindi stiamo facendo la somma dei primi numeri naturali 1 1 più 2 1 più 2 più 3 eccetera eccetera se non ci convince proviamo a scrivere queste 5 istruzioni e eseguirle passo passo facciamo la somma facciamo la somma dei primi numeri naturali fino a quando tale somma è minore di 10 quindi non stiamo facendo attenzione non confondiamoci con questo 10 non stiamo facendo la somma dei primi 10 numeri naturali non stiamo facendo la somma di 1 più 2 più 10 come abbiamo fatto in un esercizio del laboratorio però non sapevamo ancora il ciclo quindi abbiamo dovuto scriverlo per esteso lo stiamo facendo finché la somma è minore di 10 quindi quando la somma arriva a 10 o supera il 10 mi fermo e quindi vediamo nell'aube del programma che quando i vale 1 la somma vale 1 quando i vale 2 la somma vale 3 cioè 1 più 2 quando i vale 2 la somma vale 6 cioè il 3 di prima più il 3 di attuale fa 6 quando i vale 4 la somma vale 6 più 4 10 e poi non stampa più nulla perché la condizione total minore di 10 è diventata falsa quindi se lo dovessimo dire in una parola stiamo dicendo il 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 programma calcola la somma dei primi numeri naturali fino al valore fino a quando il valore di questa somma vale 10 poi un dettaglio questa print se la vedete è messa rientrata rispetto al while questo vuol dire che la stampa di i e di total viene fatta infatti lo vediamo qua ad ogni singola iterazione quindi mi stampa tutti i valori che sta calcolando intermedi se io volessi che mi stampasse solamente il risultato quindi solamente l'ultima riga basterebbe che questa print fosse non rientrata ma allineata a sinistra allora a questo punto la metto fuori del ciclo è una solita regola per cui il blocco finisce quando l'indentazione quando il rientro diciamo così viene ridotto ok alla domanda di Filippo rispondo sì lui mi chiede se nei flowcharts il while rappresenta sempre con il rombo sì lo vedete qua sia in questa slide numero 7 che rappresenta un ciclo while sia nella slide numero 5 che rappresenta il caso generale quindi è sempre un rombo ma con la differenza che a un certo punto c'è un ramo che ritorna indietro ok quindi non è tanto il rombo ma come lo uso ancora ci sta intorno ok questo era il nostro primo programmino il secondo il secondo gli altri sono sbagliati quindi cerchiamo di capire perché cosa fa il secondo allora il secondo parte in modo simile ma a un certo punto qui c'è un meno 1 anziché un più 1 tra l'altro non è anche meno i meno 1 vabbè allora cosa succede succede che normalmente la variabile i evolve esattamente come prima perché nessuno l'ha cambiata quindi conterà 0 1 2 3 4 5 il totale parte da 0 e poi comincia a decrementarsi tra l'altro questo è sbagliato nel libro perché questo qui 1 meno 1 meno 3 meno 10 dovrebbe essere meno i col meno 1 non fa la stessa cosa col meno 1 farebbe meno 1 meno 2 meno 3 meno 4 meno 5 meno 6 quindi c'è un errore di stampa sul libro questa è la presa dal libro tra le quali adesso poi lo correggeremo sulle slide me ne sono accorto adesso ma la cosa importante è che questo total parte da 0 e si decrementa quindi questa condizione total minore di 10 che inizialmente è falsa sarà falsa per sempre perché se vale 0 e poi si decrementa si decrementa si decrementa continuerà a vita a essere minore di 10 per sempre non ci sarà mai nessun modo affinché questo possa diventare maggiore di 10 ok? o maggiore o uguale 10 quindi questa questa condizione è sempre vera sempre true e questo è un male è un male perché significa che questo ciclo non terminerà mai il nostro programma girerà all'infinito e non usciremo mai a fermarlo se vi capita sulla tastiera schiacciate ctrl c per interrompere il programma oppure se siete nel dentro PyCharm c'è il quadratino rosso che lo uccide per voi perché altrimenti lui va avanti diciamo all'infinito vi serve per trasformare il computer in una stufetta perché se va avanti così scalda ok? quindi questo è un caso semplice di un errore banale un segno più è diventato un meno anzi un segno sì un segno più è diventato un meno che però fa sì che l'iterazione non termini mai il motivo vero per cui l'iterazione non termina è che la condizione non diventerà mai falsa terzo esempio terzo esempio è anche questo sbagliato dove l'errore è qui total minore di zero qui abbiamo confuso il valore iniziale col valore finale in un certo senso e quindi ci stiamo chiedendo erroneamente anziché total minore di 10 se total minore di zero in questo caso il resto del codice che qui ci sia il meno che ci sia il più non cambia niente perché in questo codice non entriamo mai non entriamo mai perché alla prima iterazione total valeva zero come valore iniziale zero è minore di zero no e quindi non entra mai nell'iterazione non fa manco una volta il ciclo il corpo del ciclo e quindi questa print non la farà mai neanche una volta quindi questo qui per errore abbiamo messo una condizione abbiamo sbagliato la condizione iniziale e l'effetto è che non entra mai nel ciclo quindi facciamo attenzione sia all'incremento sia alla alla all'avvio effettivamente del ciclo Lorenzo mi chiede di ripetere come fermiamo un programma con di solito control c proviamo a farlo noi abbiamo il nostro esempio di prima se io scrivessi numero di volte minore o uguale num se scrivessi numero di volte maggiore o uguale zero che è ovviamente sbagliato perché sarà sempre maggiore o uguale zero lo parto da uno e poi lo incremento figuriamoci il programma parte e quando arriviamo qualche cento milioni di ton ci stufiamo allora se siamo dentro PyCharm il quadratino rosso mi stoppa il programma oppure normalmente dentro la console e questo vale anche in altri tipi di console premiamo la combinazione di tasti control c che però a volte è un po' lenta a recepire e control c di solito interrompe il programma all'interno di una console però dentro il debug la cosa più dentro il PyCharm la cosa più semplice è anche su repl cioè il tastino run mentre il programma di esecuzione diventa stop quindi ci permette di interrompere brutalmente il programma dopo dopo un milione di tom guardate come in fretta come girano in fretta i numeri quando non siamo noi a doverle calcolare a mano ok altri casi malati altri tipi di errori dunque vediamo quest'altro cosa c'è che va male il uguale a 0 il total uguale a 0 il total maggiore uguale a 10 eccolo qua già subito total maggiore uguale a 10 di nuovo la condizione falsa in partenza quindi è lo stesso tipo di errore di prima dove prima avevo messo una condizione falsa in partenza dove il minore era giusto ma lo 0 era sbagliato in questo secondo caso il 10 è giusto ma il maggiore uguale è sbagliato è sbagliato il verso della disuguaglianza e quindi non riuscirà mai a entrare in questo ciclo oppure qui c'è la combinazione dei precedenti dove ovviamente il programma non termina mai di nuovo perché abbiamo messo un maggiore uguale anziché un minore uguale e partendo da 0 e incrementandolo se era già maggiore all'inizio lo rimarrà per sempre e quindi il programma anche qua non termina mai quindi sono tutti diciamo così cicli in qualche modo governati da un contatore e da un accumulatore cioè un valore che si accumula e si somma bisogna sempre fare attenzione mentalmente ricordarci questa variabile si incrementa questa si decrementa e quindi la condizione inizia vera e deve diventare falsa ok sono disequazioni che iniziano di solito con un buon margine e poi il margine si restringe via via perché la variabile diventa sempre più vicina al limite fino a quando a un certo punto non lo supera e la condizione deve diventare falsa e quindi questo porta diciamo così a una una casistica di errori comuni da cui dobbiamo fare attenzione dobbiamo guardarci dobbiamo evitare di incapparci ad esempio qua mi dice quale di queste due versioni è giusta allora vediamo che sono la stessa cosa l'unica differenza è questa disuguaglianza una in un caso maggiore uguale nell'altro caso è minore anche senza sapere cosa fa il programma allora nel caso qui ci facciamo guidare anche un po' della sintesi target scritto così sembra una costante quindi facciamo finta che non cambi anzi dentro il ciclo non cambio perché nessuno l'ha cambiata bal sarà per balance probabilmente invece cambia dentro il ciclo quindi un ciclo governato da una condizione maggiore uguale è un ciclo nel quale si presume che la variabile di controllo in questo caso balance ho chiamata variabile di controllo scusate è una definizione che ho dato prima è la variabile il cui valore può controllare la condizione questo maggiore uguale va bene nel caso in cui la variabile di controllo decresca e quest'altra versione col minore è adatta al caso in cui la variabile balance sia una variabile che dentro le interazioni cresca in qualche modo non necessariamente lineare ma cresca perché se cresce ho la speranza che prima o poi quel minore non sia più valido così come se decresce ho la speranza che prima o poi questo maggiore non fosse valido quindi se così non fosse quindi se balance fosse crescente nel caso di sinistra il ciclo non termina mai così come se balance fosse decrescente nel ciclo di destra il ciclo non termina mai allora in questo caso nel nostro esempio balance è crescente o decrescente dipende dal segno di rate quindi questo noi pensiamo speriamo che mettendo i soldi in banca questi in qualche modo aumentino e quindi questo va bene se rate è positivo allora balance cresce e allora va bene la versione di destra se malauguratamente rate fosse negativo allora stiamo perdendo soldi di anno in anno vabbè ma poi dipende da che cosa sta calcolando questo algoritmo e avrebbe senso fermarci quando il balance diventa inferiore quindi non è più superiore a un certo livello diciamo così di minimo al di sotto del quale non voglio più giocare o non voglio più diciamo così accettare di perdere o quello che sia ok quindi non è sempre evidente qui non c'è scritto da nessuna parte se balance cresce o non cresce noi stiamo usando degli indizi il maggiore va bene se sto scendendo perché ho identificato diciamo così un livello minimo che quando viene incontrato fa fermare e a destra invece se ho il minore sto identificando ho identificato un livello massimo superato il quale fermo l'iterazione poi se cresce o non cresce sarò io programmatore a sapere se il mio rate è positivo o negativo e quindi che tipo di ciclo usare non c'è scritto qua sono io che lo devo capire o costruire quando costruisco il programma questo è un errore più facile ma anche più subdolo qui è facile perché nel titolo c'è scritto cicli infiniti e quindi sappiamo già cosa andare a cercare però che cosa succede in questa istruzione in questo frammento di codice è semplicemente ci siamo dimenticati un pezzo perché vedete che balance minore di target incremento gli anni calcolo di interesse eccetera eccetera mi sono dimenticato di incrementare il balance è una dimenticanza come fare un ciclo su i e dimenticare di incrementare i allora in questo caso non è per motivi strani il segno del tasso di interesse negativo o altro ma semplicemente ho dimenticato un'istruzione ho dimenticato di aggiornare la variabile di controllo quindi la variabile che è l'unica che mi può fare uscire dal ciclo non l'avevo modificata non l'avevo aggiornata e allora questo ovviamente mi portava un ciclo infinito e quindi un ciclo non utile altri errori altri errori comuni e queste sono categorie di errori che sono frequentissimi non solamente nei cicli ma in metà dei costrutti informatici i cosiddetti errori off by one cioè sbaglio di uno sbaglio di uno in più o sbaglio di uno in meno cioè se devo fare cinque iterazioni ne faccio sei oppure ne faccio quattro perché ma di solito perché ho sbagliato o ho sbagliato a inizializzare un valore un contatore oppure ho sbagliato a controllare la fine allora noi sappiamo che conosciamo questi due metodi no? partire da zero e usare il minore incrementando di uno ogni volta oppure partire da uno e usare il minore uguale per contare le iterazioni quindi in questo caso siamo sicuri di fare il numero giusto di iterazioni però in generale in problemi generali dobbiamo aspettarci immaginate non so di dover che ne so contare quante volte in una stringa c'è uno spazio e allora potete fare un'iterazione che va a prendere un carattere per volta però dobbiamo ricordarci di prendere anche il primo e anche l'ultimo carattere non dimenticarci il primo non dimenticarci l'ultimo e cose di questo genere adesso poi faremo chiaramente parecchi esempi per riuscire un po' a mettere in pratica queste cose però il fatto che sia molto frequente sbagliare di uno quindi farne uno di troppo o uno troppo poco ci ricorda semplicemente che quando imposto un ciclo il 90% dell'attenzione è sul corpo del ciclo cioè cosa devo fare effettivamente davvero ma non devo dimenticarmi di chiedermi sempre queste due cose ma la prima volta quali sono i valori giusti delle variabili li ho inizializzati bene la prima volta che eseggo il ciclo chiaramente e l'ultima volta l'ultima iterazione con quali valori viene fatto qual è l'ultimo valore della variabile di controllo che fa sì che l'esecuzione venga ancora fatta e invece il primo valore che fa sì che l'esecuzione non venga più fatta ecco questo caso iniziale e caso finale dobbiamo ogni volta pensarlo esplicitamente per essere sicuri di non cadere in questo tipo di errorini e poi ovviamente non tutti i cicli sono cicli controllati da un contatore puro o da un evento puro una condizione pura e qui rispondo a una domanda che me l'ha già fatto forse mezz'ora fa Angel che mi diceva ma io in una condizione di un while posso mettere anche in una condizione più complicata più articolata sì così come nella if potevo mettere combinazioni complicate usando ovviamente i connettivi logici gli operatori booleani and or e not lo posso fare anche nelle istruzioni while ovunque ci sia una condizione questa condizione può essere complicata a piacere dove il limite massimo della complicazione è la mia capacità di scriverla o di comprendere non è la capacità del computer di elaborarla quindi vediamo ad esempio cosa fanno questi questi signori hanno scritto un programmino che dice count uguale a zero ok uguale a truce chiamo di capire cosa fa così capendo un po' di esercizi scritti da altri magari ci impratichiamo su quelli che dovremmo scrivere noi while count minore dieci and ok leggi un numero allora questo è facile prendi un numero e lo legge dentro a un numero intero poi si chiede se a uguale a zero mette ok a falso poi stampa il numero e poi incrementa il contatore allora cosa fa questo ciclo non leggete questo me lo cancello così non leggete cosa fa allora lui arriva poi possiamo provare a eseguirlo ma prima proviamo a leggere riga per riga count parte da zero quindi la condizione count minore di zero con minore di dieci perdone è sicuramente vera bene entriamo nel ciclo entriamo purché ok attenzione che qui c'è un end purché ok sia anche essa una variabile vera in questo caso che è una variabile booleana l'abbiamo iniziata a vera bene quindi abbiamo un end di due condizioni la prima è vera la seconda è vera e quindi entriamo nel ciclo qual è la logica di queste condizioni e beh avendo un end come condizione di ciclo noi possiamo uscire per due motivi termina quando count uguale 10 esce ma anche quando ok uguale false esce visto che un end è soddisfatto solo se le sue due metà e se le sue due operandi sono entrambi veri se uno solo di due cade diventa falso allora la condizione nel suo complesso diventa falsa e io esco dal while allora per far diventare falso il primo pezzo basta che count raggiunga 10 io ho scritto uguale ma in realtà potrebbe anche essere maggiore in realtà io al maggiore non arrivo non arrivo al maggiore perché partendo da zero incrementando di uno a un certo punto arrivo prima al 10 che non all'11 quindi il caso in cui viene invalidata la condizione che diventa falsa è quello del 10 ma oppure anche se la seconda metà il secondo operando l'ok diventa falso inizia vero ma poi potrebbe diventare falso e e quindi mi fa uscire qual è e vabbè qui abbiamo letto una riga ma poi dobbiamo capire il significato cosa vuol dire che count uguale a 10 vuol dire che ho letto 10 numeri letto 10 numeri non cercate di leggere perché scrivo male ma lo dico a voce alta mentre lo scrivo quindi ho già letto 10 numeri quindi mi fermo vuol dire che questo programma è fatto per leggere 10 numeri e ciascuna tra ciascuna iterazione ho stampato A siamo sicuri che ho letto 10 numeri? beh sì perché verifico che il contatore lo incremento di uno ogni volta verifichiamo che nessuno non ci abbia fatto uno scartetto strano che il contatore me lo incrementi di 7 o di 3.4 me lo incrementa di 1 e quindi effettivamente parte da 0 e diventerà 1 2 3 4 5 sarà il classico ciclo che conta partendo da 0 incrementandosi di 1 e verifica col minore la condizione di uscita quindi il classico ciclo controllato da un contatore che va fino a 10 e questo è facile e quando è invece quando si verifica invece il caso ok uguale falso e che cos'è ok ok uguale falso lo vediamo dal codice ok nasce vero quindi alla fine è una variabile come l'avevamo chiamata flag bandierina indicatore la bandierina l'indicatore è parte vero e finché è vero mi dà il permesso di rimanere nel ciclo and ok quando quell'indicatore diventa falso la bandierina si abbassa allora mi sta dicendo esci subito dal ciclo non ti do più il permesso di rimanere nel ciclo anche se count è ancora piccolo anche se count non ha raggiunto il 10 tu devi uscire perché la condizione che ti pongo qua è diventata falsa and ok ok è falso and falso mi dà falso indipendentemente dal valore di count e quando è che metto la bandierina giù perché la bandierina non è che scende da sola la bandierina l'abbasso il flag lo metto a falso qui sotto questa condizione if a uguale a 0 quindi ok è uguale a falso quando esce quando quando l'ultimo numero letto l'ultimo numero letto letto dall'utente è era scusate 0 cioè sto programma fa sì che l'utente possa inserire 10 numeri e me li stampa vabbè fa una cosa inutile e me li stampa ma se per caso io gli inserisco uno 0 termina prima cioè se io volevo stampare solamente 3 numeri 7, 14, 21 e non stampare non inserire 10 io scriverò 7, 14, 21 0 quando inserisco lo 0 lui capisce capisce niente lui esegue cioè il programmatore ci ha pensato e ha messo questo controllo che mi dice se l'utente ha inserito uno 0 mettiamo il flag a falso questo flag a falso fa sì che la prossima iterazione la condizione while diventi falsa e il ciclo si interrompe prematuramente quindi questo ciclo è controllato simultaneamente da un contatore che conta 10 iterazioni e da un evento la condizione che l'input in questo caso fosse 0 0 non input o input ok? quindi in questo caso abbiamo combinato due tipologie di cicli inserisci dei valori fino a quando l'utente inserisce 0 e questo andrà davanti all'infinito finché inserisco massimo inserisco uno 0 ma finché continuo a mettere immettere dati diversi da 0 andrà sempre avanti e l'altro invece è inserisci 10 valori li ho combinati dicendo inserisci al massimo 10 valori ma se per caso trovi uno 0 ti fermi prima ok vengo ai vostri commenti Simone mi chiede ma il ciclo inizia quando abbiamo inserito l'input? allora il ciclo tecnicamente inizia sulla riga sull'istruzione successiva al while quindi il corpo del ciclo scusate questa riga qua è venuta malissimo il corpo del ciclo è costituito da queste istruzioni rientrate quindi il ciclo inizia con questa istruzione qua int input number che fa parte del ciclo il while è la riga di controllo del ciclo ma il corpo del ciclo è ciò che è rientrato Emanuele dice attenzione che però così stai stampando anche lo 0 è vero è vero nel senso che se l'utente inserisce 0 io scriverò che il numero 7 il settimo numero che ho inserito è uguale a 0 questo dipende se lo voglio o no se per me 0 era un valore particolare che mi voleva dire smetti basta ho finito magari non lo voglio vedere stampato così come è scritto il codice stampa comunque anche lo 0 se io non lo volessi vedere stampato questa print giustamente come dite voi andrebbe allineata qui dentro la if no scusate dentro un else quindi la stampo solo se a era diverso da 0 e quindi questo era un problema nel caso in cui volessimo non mostrare quel valore poi se volete ci giochiamo e lo proviamo a scrivere insieme l'altra preoccupazione quella di Melissa invece non non mi preoccupa più di tanto perché Melissa mi dice eh bravo però anche se è falso tu comunque lo incrementi non fosse capito male quello che dici tu fa lo stesso lo dico una cosa diversa anche se prima ci siamo preoccupati di questa print che dice stampiamo questo valore di A anche quando l'A vale 0 e per noi lo 0 è un valore che non è valido e quindi magari mettiamo un else in modo che non venga stampato poi lo facciamo sul codice qualcun altro potrebbe dire ma anche count lo stiamo incrementando quando non dovremmo incrementarlo perché quel valore è un valore non valido devo dire che non me ne frega niente perché count sia che lo incrementi che non lo incrementi quando dopo che ho inserito un 0 comunque esco dal ciclo quindi quella è una variabile che può essere incrementata o no ma tanto alla fine esco dal ciclo quanto valesse quella variabile devo dire che non me ne frega più di tanto perché tanto sono uscito dal ciclo e non mi serve più controllare bene il suo valore affinché la variabile controlli il ciclo Jacopo chiede ma se scrivo ok uguale a falso e vengono eseguiti i print successivi certo sicuramente non c'è teletrasporto è vero che qui c'è un end ok ma questa condizione viene verificata solo quando l'esecuzione torna all'istituzione while quindi se a metà del ciclo come qua abbiamo messo ok uguale a false va bene l'abbiamo messo una variabile a zero poi l'iterazione finisce con calma tutte le istituzioni del corpo del ciclo quando arriva l'ultima istituzione torna su e va a vedere di nuovo quanto vale ok quindi l'iterazione non viene interrotta brutalmente a metà solo perché ho messo ok uguale a false e lui si ricorda che l'ok era una condizione del ciclo while non fa nessun tipo di ragionamento di questo genere ho messo ok uguale a falso quando lui andrà a ricontrollare questo valore lo troverà falso e quindi uscirà dal ciclo quindi non è istantaneo il fatto ho messo ok uguale a false e quindi non faccio più le istituzioni dopo sì sì che le faccio queste istituzioni sono fuori dal leaf ma dentro il while quindi le faccio fuori dal leaf sempre in ogni caso sia che leaf sia vera che falsa perché sono fuori e le faccio ancora per completamento dell'iterazione corrente perché sono comunque dentro il corpo del while quindi se vogliamo possiamo provare interattivamente così giochiamo sulle varie varianti di trascrivere questo esercizio leggi 10 chiamiamolo in cui dicevamo che così copio le stesse variabili count uguale a 0 ok uguale a true e poi e poi while count minore di 10 and ok che cosa faccio a uguale a input di numero int convertito in intero if a uguale a 0 ok uguale a false e poi in ogni caso print f numero count più 1 uguale a count uguale a count più 1 ok e lo eseguiamo quindi proviamo a inserire dei numeri inserisco un po' di 3 un po' di 4 e lui mi stampa ogni volta numero 1 cioè il primo numero che ho inserito è un 3 il secondo numero che ho inserito è un 3 e così via e se tutto va bene quando ne avrò inseriti 10 dopo che ho inserito il decimo numero me lo stampa e il programma finisce termina ma se io lo eseguissi nuovamente e dopo dopo i primi numeri inserissi uno 0 il programma termina lo stesso prima prima perché termina per quest'altra metà condizione ok uguale a uguale a 0 ok giustamente mi fanno notare e conviene ribadirlo sempre che quando io faccio un confronto ho usato il doppio uguale non l'uguale singolo l'uguale singolo sarebbe un errore vedete che me lo viene anche per fortuna segnalato da python a differenza di altri linguaggi di programmazione dove l'errore rimane e se non me ne accorgo il programma sbaglia brutalmente in python è un errore di sintassi usare l'uguale singolo l'uguale singolo è per assegnare un nuovo valore il doppio uguale per fare un confronto ok confronto se a vale 0 non sto mettendo a a 0 il count più 1 sappiamo già che cosa vuol dire perché qualcuno ha messo più 1 ma per stampare i numeri come 1, 2, 3 in formato umano non in formato informatico perché in realtà noi qua stiamo normalmente contando partire da 0 quello che avevamo notato nella slide è che questa print qua viene fatta anche quando il numero era 0 potrebbe essere brutto allora noi possiamo decidere che questa print la facciamo solo se il dato non era 0 e quindi possiamo condizionarla ad esempio da un else e rientrarla qua dentro quindi in questo caso se io inserisco dei valori poi inserisco 0 il programma finisce ma non mi stampa più numero 3 uguale 0 perché effettivamente abbiamo notato che era inutile o antiestetico combiniamo tranquillamente while e if annidandoli a piacere quanto ci serve non c'è nessun problema dentro un while ci può stare un if dentro un if ci può stare un while dentro un if ci può stare un altro if e dentro un while ci può stare un altro while non c'è nessun limite non c'è nessuna difficoltà se no la difficoltà nostra come sempre di programmatore di riuscire a capire cosa stiamo facendo cosa stiamo scrivendo ci può aiutare a capire meglio soprattutto all'inizio cosa fanno dei cicli sicuramente eseguire passo passo con il debugger tra l'altro PyCharm è abbastanza buono come debugger ci fa vedere esattamente i valori delle variabili ci fa vedere quali righe vengono eseguite e quali righe vengono saltate e quindi ci aiuta parecchio a capire a ragionare su che cosa sta succedendo quindi se avete un dubbio ma cosa succede qua provatelo come abbiamo fatto adesso più volte fate un programmino di tre righe cinque righe e vediamo cosa succede provandolo ci interiorizziamo meglio il funzionamento dei cicli e la volta successiva quando vediamo scritto il codice capiamo prima più facilmente al volo che cosa succede in realtà ma l'altra metodica invece è proprio una metodica manuale prendiamo un foglio di carta che adesso qua sulle slide siamo schematizzato da questa cosa qua azzurrina e proviamo a scrivere i valori che assumono le variabili del ciclo ad ogni iterazione in un programma sequenziale dove non ci sono dei cicli ogni variabile ha un valore poi ogni tanto la modifico ma non tanto spesso all'interno di un ciclo le stesse variabili vengono modificate più e più volte il contatore ogni volta si incrementa il totale ogni volta si somma e così via e quindi è importante avere chiaro in mente qual è la trasformazione che queste variabili assumono ogni volta che attraverso il ciclo quindi noi iniziamo ogni iterazione del ciclo con un valore delle variabili poi eseguendo l'istruzione del ciclo questi valori vengono modificati e alla fine il ciclo saranno diversi i valori che hanno le variabili alla fine di un'iterazione sono gli stessi ovviamente che avranno all'inizio dell'iterazione successiva subito dopo ovviamente se la condizione di iterazione è ancora vera e quindi l'iterazione successiva verrà fatta allora un modo per visualizzare questo visto che le variabili cambiano più volte è quello proprio di fare una tabellina io vado a fare una tabellina in cui ci sono le colonne che rappresentano le variabili usate dentro il ciclo quindi qua non sappiamo ancora cosa fa questo frammento di codice cerchiamo di eseguirlo cerchiamo di di nuovo non leggete qua perché ve lo dice cerchiamo di eseguirlo e cerchiamo di capire come funziona allora qui inizializza le variabili n è totale e qua dentro calcola usa tre variabili che sono digit total e n e alla fine stampa total quindi sappiamo che questo frammento di programma ha come scopo quello di calcolare un valore che si chiama total come lo calcola uguale a n maggiore di zero n è un numerone quindi inizialmente maggiore di zero e allora ci scriviamo qua sulla prima riga qui abbiamo messo tante colonne quante sono le variabili gestite all'interno del ciclo che il ciclo modifica e come faccio a sapere quali sono quelle che il ciclo modifica quelle che stanno a sinistra dell'uguale e mi scrivo sulla prima riga il valore che assumono queste variabili prima dell'inizio del ciclo quindi il valore iniziale il valore inizializzato già subito mi accorgo che non è stato inizializzato vediamo se è un problema se non è un problema ma le altre sono state inizializzate rispettivamente a 1729 e a zero poi entro nel ciclo chiaramente mi chiedo n maggiore di zero sì è la condizione in questo caso n maggiore di zero e quindi eseguo la prima iterazione vado avanti riga per riga e man mano che vado avanti tutte le volte che viene assegnato un valore a una di queste variabili lo trascrivo nella casella corrispondente e quindi digit uguale n modulo 10 n è 1729 e quindi digit varrà 9 il resto della divisione di 1729 diviso 10 farà 172 con il resto di 9 e quindi 9 e nella casella ti metterò 9 digit poi subito dopo eseguo total uguale total più digit quindi total valeva zero adesso in questa iterazione dopo questa iterazione varrà zero zero più 9 e quindi 9 e la riga dopo n uguale n divisione intera per 10 ricordiamo il doppio slash fa la divisione intera mi darà 172 172 che ho scritto qua quindi alla fine della seconda iterazione avremo n della prima interazione avremo n uguale 172 total uguale 9 digit uguale 9 torniamo su e chiediamo while devo fare un'interazione successiva n è ancora maggiore di zero sì e allora andiamo avanti quindi la seconda iterazione sarà fatta a partire da valori iniziali che sono 172 9 9 i valori iniziali della seconda iterazione alto non sono che non i valori finali della prima iterazione che abbiamo appena calcolato e quindi andiamo avanti digit uguale n modulo 10 qui 172 2 total uguale total più digit quindi total valeva 9 più 2 11 n uguale n diviso l'intera 10 172 diventa 17 e vado avanti così quindi ho questa tabella in cui la prima riga rappresenta i valori iniziali le righe successive rappresentano i valori calcolati al termine della prima iterazione ossia all'inizio della seconda al termine della seconda iterazione ossia all'inizio della terza e così via e quindi riesco in modo anche ordinato a tenere traccia per quello si chiama hand tracing dei cicli tenere traccia a mano di cosa succede dentro un ciclo quindi se avete difficoltà a capire come funziona un certo meccanismo questo è un modo molto ordinato molto sistematico per riuscire a a capire cosa succede e a simulare a mano l'esecuzione del ciclo quindi la possiamo scrivere in python e far eseguire il debugger oppure scrivere a mano così capiamo bene i vari passaggi la variabile digit di cui mi state chiedendo in chat è una variabile finora attenzione finora non abbiamo ancora detto cosa fa questo programma l'abbiamo eseguito riga per riga chiedendoci quali sono i numeri che vengono calcolati allora la variabile digit ad ogni iterazione prende il valore n modulo 10 il resto della divisione di n per 10 ok che detto in altre parole è la cifra delle unità di n se n era 1729 le unità sono 9 se è 172 le unità sono 2 ok la cosa qua ditela al vostro prof di analisi che non lo sapete e se non lo sapete no sto scherzando quindi ogni volta faccio la divisione per 10 e prendo il resto in pratica poiché è 10 il numero tra cui sto dividendo sto separando estraendo la cifra delle unità ok ma il sapere cosa stiamo facendo in questo momento per questa operazione qua di scrittura di numero nella tabellina non ci serve ogni volta vado avanti ancora quindi alla fine di questa iterazione ho fatto la prima iterazione ho fatto la seconda 17 è ancora maggiore di 0 sì e quindi farò ancora quella dopo parto con n uguale 17 digit uguale 17 modulo 10 cioè 7 total uguale 11 più 7 fa 18 n uguale n divisione 10 quindi 17 diviso 10 fa 1 devo ancora devo ancora fare un'altra iterazione certo perché perché n è maggiore di 0 e n vale 1 quindi è maggiore di 0 e quindi farò ancora un'ulteriore iterazione i cui valori iniziali saranno 1 18 e 7 digit uguale n che in questo caso vale 1 modulo 10 fa 1 total uguale 18 più 1 19 e finalmente n sarà n che valeva 1 diviso 10 che fa 0 ecco a questo punto n è diventato 0 e quindi la condizione while n è maggiore di 0 è falsa finalmente diventa falsa e allora usciamo dal ciclo e stampiamo il totale che è il valore che assume la variabile total al termine dell'ultima iterazione due osservazioni la prima è ma sto ciclo complicato siamo sicuri che termini prima o poi io sono sicuro che termini sì perché parto con un valore di n ogni volta lo divido per 10 e mi chiedo quando è maggiore di 0 divisione intera per 10 e mi chiedo quando è maggiore di 0 cioè se prendo un numero grande quanto voglio e lo divido ripetutamente per 10 prendendo ogni volta la parte intera prima o poi arriva 0 non potrà rimanere sempre maggiore di 0 no perché la divisione prima o poi diventa minore di 1 e prendendo la parte intera diventa uguale a 0 quindi è un modo un po' strano non sto incrementando un contatore sto ogni volta dimezzando diciamo così è una successione esponenziale questa qua che subisce n esponenziale negativa ogni volta divido per 10 però di sicuro prima o poi mi fermo quindi questo ciclo wide è un ciclo sano perché mi garantisce che prima o poi io mi mi possa fermare posso fermare l'esecuzione prima osservazione seconda osservazione adesso abbiamo capito cosa fa questo programma ad ogni iterazione la variabile digit assume il valore delle unità di n ma ad ogni iterazione il valore di n è uguale all'n di prima diviso per 10 quindi in pratica la prima volta digit è il valore delle unità la seconda volta è il valore delle unità del numero diviso per 10 cioè sono decine e la terza volta sarà le unità del numero diviso due volte per 10 cioè diviso per 100 ossia la centinaia vedete che questo numero n via via lo stiamo mangiando morsicando da destra togliendo dei pezzi la verità è che 1629 lo stiamo separando nella cifra dell'unità 9 che mettiamo dentro digit e ciò che resta 172 che sono i numeri rimanenti quindi via via stiamo staccando con questa operazione modulo e divisione stiamo staccando 1 per volta le cifre dell'unità e le stiamo sommando tra di loro quindi questo 19 alla fine è la somma di 1 più 7 più 2 più 9 anzi scusate facciamo nell'ordine giusto 9 più 2 più 7 più 1 e mi da il totale 19 ok quindi abbiamo scritto un ciclo che mi calcola la somma delle cifre decimali del numero fornito in partenza n Luca mi chiede ma perché non devi inizializzare anche le variabili digit così come hai fatto con le variabili n e la variabile total perché è vero che questa variabile viene assegnata dentro il ciclo ma quando entro nel ciclo non mi serve nessun non uso mai non uso mai nessun valore iniziale precedente della variabile digit stessa cioè vedete che ogni volta io la ricalcolo da 0 la ricalcolo partendo da n quindi io quando arrivo al fondo qua con un valore di digit quando inizio l'iterazione successiva il valore vecchio di digit del giro prima non viene mai usato cioè la cancello prima di leggerla in un certo senso la ricalcolo da 0 qui senza tener conto perché non mi serve del valore che aveva all'iterazione precedente quindi visto che all'interno di ogni iterazione la ricalcolo comunque da 0 non mi serve fare nulla di speciale per segnare un valore sensato alla prima iterazione perché tanto viene sovrascritta quindi in questo caso una variabile di comodo di parcheggio interna al ciclo non è una variabile che controlla l'evoluzione del ciclo vero e proprio addirittura noi al posto capite che al posto di scrivere questa espressione avremmo potuto mettere benissimo qua n modulo 10 e la variabile digit non ci serviva perché alla fine del ciclo quando l'ho sommata qua dentro non mi serve più la butto via e al prossimo giro la ricalcolo di nuovo da 0 quindi in questo caso non è necessario dargli un valore iniziale perché non verrebbe comunque mai usato mentre invece total viene prima letto poi ci sommo qualcosa e poi viene assegnato viene aggiornato n viene prima letto e poi aggiornato attenzione che la situazione di uguagliante di assegnazione prima calcola ciò che c'è alla sua destra e poi lo mette nella variabile sinistra e quindi quando prima leggo e poi scrivo quindi quando di fatto aggiorno una variabile poiché prima lo leggo devo chiedermi no formi il problema della prima volta della prima iterazione quindi questa è una tecnica diciamo così manuale che vi consiglio anche di diciamo di utilizzare proprio per cercare di capire meglio sia eseguire in debug sia diciamo così tracciare a mano i vari passaggi soprattutto quando c'è qualche aggoglio un po' complicato vederselo a mano carta e penna aiuta sicuramente il ragionamento ok quindi questo è se vogliamo le cose essenziali sui cicli controllati in un'istruzione while questo è il mega riassunto di che cosa sono le condizioni di che cosa sono i punti a cui fare attenzione valore iniziale incremento valore finale essenzialmente e siamo anche arrivati a un punto dell'orologio che ci può permettere di fare una pausa quindi tutti questi diciamo concetti su cui abbiamo lavorato adesso poi proviamo a metterli in pratica in un po' di casi particolari anche un pochino più complicati rispetto a questi esempi di tre righe che sono tutto sommato diciamo così fin troppo facili ci danno quasi l'impressione che sia tutto banale sapete che ogni volta che aggiungiamo un pezzettino la complessità aumenterà quindi la complessità adesso sarà data dalla combinazione dei cicli cicli annidati uno dentro l'altro e combinazione tra cicli e condizionali quindi cominciano a farsi le cose un pochino più interessanti quindi se non ci sono domande al volo in questo momento io dichiarerei il solito momento di di pausa